Eccoci qui, la cosa è un attimo diversa rispetto a quelle che troviamo di solito, è leggermente più piccola, però vale la pena, guarda, adesso andiamo a vedere com'è più da vicino ovviamente, la strada è questa qui, non fa neanche tanto freddo, siamo più o meno a quota 800, andiamo a vedere, va! Siamo dall'altra parte a Monte, questo simpatico signore lì, quello lì, si chiama Monte Rosa, se ci giriamo, vediamo questo meraviglioso ponte di Balsa, vediamo le assicelle di Balsa, questa è la corsia che viene, adesso ci togliamo, se no ci tritano perché c'è un casino di traffico, e di là, ecco la nostra bellissima costruzione, eccola là! Dicevo, preannunciata da Monte Rosa, eccola qua, la nostra simpatica diga, e ovviamente preceduta, come si conviene, da un bel cestone del Rottame, ma va bene lo stesso, Ah sì, chiaro, a cosa serve il cestone? Eccolo qua, guarda, vedi? Non è neanche ADR, la nostra diga è qui, ed eccola, paesaggio tipicamente estivo, come vuol dirsi, sembra ad essere a ferragosto, insomma, sono 0 gradi, più o meno, mi si sta congelando anche la voce, ed ecco la parte a Monte, quella là è una centrale elettrica, se riesco a trovare il modo di raggiungerla, ci vado, beh, bel paesaggino, no? Bel paesaggino, adesso facciamo un giro indietro, quello è il paese di Ceppo Morelli, e qui sopra vediamo un po' cosa c'è, guarda che bello, è il nostro rosa, con cui abbiamo iniziato, e con cui chiudiamo questa.